Buongiorno, scommetto che mi aspettava. Eh sì, come se aspetta un infarto. Fa freschino, eh? Già. È l'inverno. Ma sai che la trovo bene? Grazie. Hai capelli più corti? Sì. Li ha tagliati? No, ho fatto fare l'orlo ad un sarto, ho fatto fare. Così se poi li voglio più lunghi li faccio scucire. Certo, certo.